Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Settimana completa in Eurolega, due partite, il momento decisivo della stagione, Virtus Bologna chiamata prima in casa col Partisan e poi sul campo dell'Alba Berlino. Stasera partita contro il Partisan, hanno vinto i Serbi per 88-79, un successo fondamentale per la squadra di Obradovic che la lancia sempre di più verso quel sesto posto che rappresenta la qualificazione e viceversa una sconfitta grave per la Virtus perché era uno scontro diretto contro una squadra pochi punti avanti e soprattutto quindi questo chiude ancora di più la strada per andare a cercare di recuperare una delle due probabilmente posizioni ma il Bascogna ha vinto anche a Madrid quindi la situazione si fa sempre più complicata. Allora, partita che è stata bellissima, sinceramente per me, spettatore neutrale, vederla è stata veramente veramente divertente un'atmosfera straordinaria, tantissimi tifosi della squadra serba del Partisan che hanno creato anche loro grande atmosfera palazzo per cui vista da casa è stata qualcosa di eccezionale e anche la partita in sé è stata io credo una delle più belle che ho visto quest'anno almeno per 33 minuti perché c'è stato equilibrio anche competitivo tra le due squadre poi negli ultimi sette minuti il Partisan ha messo la freccia, è nato via e per la Virtus si è fatto troppo difficile cercare di recuperare la vittoria. Comunque mi è piaciuta la gara anche perché è stato un mix delle Euroleague di una volta delle coppie di campioni vere del basket di una volta. Primo tempo quasi più ogni 80 con attacchi dominanti sulle difese soprattutto nel primo quarto, nel secondo quarto bravissima la Virtus a riuscire a imbrigliare molto di più il Partisan e a trovare i canestri di squadra con Bellinelli raddoppiato o triplicato che riusciva a far andare via la palla molto bene, Teodosic in grande spolvero e Virtus che va all'intervallo lungo avanti 47-45. Il secondo tempo è stato invece un po' più Euroleague anni 90 con difese rocciose, ruvide, tuffi da tutte le parti, palloni recuperati, palloni persi, tanti ne parleremo della Virtus soprattutto e alla fine il parziale è stato di 32 a 43. È stato per cui basket anni 90 ma con questo atletismo debordante che hanno i giocatori del basket moderno, un uomo su tutti, Exum del Partisan che ha fatto delle cose che raramente, probabilmente, è capitato di vedere su parchi di livello europeo. La Virtus è stata, come dicevamo, in partita per 33 minuti sostanzialmente più o meno, forse qualcosa in più perché non è mai nata sotto neanche nel finale, però negli ultimi minuti non ho avuto sinceramente mai la sensazione che Bologna avesse la gara in controllo. Mi sembrava più il Partisan che stesse prendendo la partita nelle proprie mani. Tanto per cambiare, prezzo altissimo da pagare agli infortuni che è un po' la costante di tutta questa stagione di Bologna. Gli alti e bassi sono una costante e il non essere mai con la formazione al completo sono un'altra costante. Questo rende anche difficile dare alla fine un pagella, dare un'opinione definitiva su che cosa sia questa stagione della Virtus di quest'anno perché comunque, a prescindere, è una squadra che si deve sempre riadattare camaleonticamente alla realtà del giorno, a tutti i giocatori che mancano e quindi questo da sempre comunque quella incertezza su che cosa sarebbe successo se ci fossero stati tutti e in questa volta oltre a Cordinier già fuori da un po' si è giunta anche l'assenza di Toco Schenghelia che piuttosto che niente si è preso pure una varicella e quindi questo in una partita così fisica come era quella di oggi contro il Partizan è stata un'assenza assolutamente fondamentale. Ojeleje stesso, 13 punti, 5 su 9, 5 rimbalzi, uno dei giocatori più fisici della squadra si è infortunato anche lui e dovremmo capire che cosa succederà anche per il giocatore ex NBA. Alla fine quindi è veramente complicato giocare in questo modo e purtroppo oggi è stata una serata nella quale Bellinelli dopo un periodo dove ha fatto di tutto, non ultima la gara di Tortona in campionato di due giorni fa, 13 minuti, 0 punti, 0 su 5, meno 6 di valutazione e più uno però con lui in campo. La presenza di Bellinelli nel primo tempo è stata comunque molto positiva perché come dicevamo come avevo detto prima ha liberato molto, lui è stato anche bravo a passare la palla quando non riusciva a trovare spazio per tirare e credo che lì vi ha fatto un grandissimo lavoro. Nel secondo tempo invece ha cercato disperatamente di mettersi in partita, ha forzato qualche conclusione di troppo, ha perso qualche pallone di troppo e lì la sua presenza è stata oggi negativa. Il migliore giocatore in campo della Virtus a mio avviso è stato Miki che stavolta ha trovato una gran bella serata, 13 punti, 9 rimbalzi, 25 di valutazione e penso che lì sotto abbia fatto veramente il suo con grande forza fisica e mi è piaciuto veramente molto. Così come in generale un po' tutto il reparto lunghi stavolta perché Bakou i suoi minuti in campo e 9 di valutazione, preciso dalla lunetta, ha dato tanta intensità, una bellissima stoppata proprio nel momento migliore che è stato il secondo quarto, il momento migliore della Virtus. JT è partito malissimo, ha sbagliato dei canesti da andare dentro e non so, a cercare di fare qualsiasi cosa per cercare di svegliarlo, poi però ha giocato un gran secondo tempo, 14 punti, 5 su 7, 4 su 6 anche dalla lunetta, considero la sua prestazione tra quelle positive. La chiave della gara, come dicevo, le palle perse, la Virtus è tirato con il 63 da 2 ma nel 19 su 32 ci sono credo 4 o 5 appoggi al ferro assolutamente semplicissimi, sbagliati da tutti perché stavolta non gli ha sbagliato solo JT, ha sbagliato anche Eugé Lege, ne ha sbagliato uno anche forse Bakou, no Bakou non credo, insomma ci sono stati più errori proprio in appoggio semplicissimo da sotto e questo è qualcosa che in una gara che alla fine finisce con così pochi punti di scarto sicuramente si paga, da 3 punti 8 su 20 il 40% però il differenziale 24 assist che non sono pochi ma solo più 3 di differenziale perché i palloni persi sono stati 21 di cui 17 palle recuperate del Partizan, il Partizan ha messo un'intensità difensiva che onestamente era fuori dalle possibilità di essere ribattuta da parte della Virtus. Tiri da sotto sbagliati l'abbiamo detto, per Teodosic 12 assist ma anche 8 palle perse, a bassa ha giocato una partita positiva ancora 10 punti 4 su 6. Ora la domanda è MVP come detto Exum 33 di valutazione con 7 ribalzi, 7 assist, 7 palle subiti, 17 punti con 6 su 11. È finita ora? Questa è la domanda, non tanto da un punto di vista matematico perché le possibilità ci sono ancora, quanto come scelta per questa stagione considerando che dall'altra parte nell'obiettivo altro che rimane in questa stagione è vincere il campionato. C'è una Milano che al contrario sta recuperando i suoi giocatori infortunati. Milano è stata molto meno brava di Bologna a giocare con i giocatori infortunati di questa stagione. Basta vedere dove è finita in classifica le serie di sconfitte consecutive incredibili che ha messo. Però ora che ha recuperato tutti è tornata a vincere e ora è più indietro della Virtus. Penso che sia abbastanza complicato anche per Milano la rincorsa dei playoff, però è in filotto positivo. Ora però dicevo per la Virtus è meglio cercare ancora di usare energie per tentare questa volata playoff molto molto complicata o è meglio cercare magari di recuperare le forze e puntare al campionato contro una Milano che sarà al completo. Questa è la scelta dei prossimi giorni, ne parleremo anche nei prossimi video. Ultima cosa, mi piace stavolta spendere una parola per gli arbitri perché soprattutto quando c'è il resuelo come capoterna, credo che al di là dei singoli episodi che magari ci sono stati dei fischi sbagliati sicuramente come è normale che sia, però la sensazione di controllo della partita che trasmette una terna soprattutto che ha dato stasera in questa terna, in particolare guidata da ieri resuelo, è stata molto forte, secondo me è un bel modo di arbitrare la palla canestro, quindi stavolta spendo anche una parola positiva per l'arbitraggio. Grazie ragazzi, iscrittevi al canale, attendo i vostri commenti, domani parleremo dell'Olimpia, purtroppo ho letto la notizia e Milano abbattuto anche il Valencia e mi guarderò la partita domani, vi farò un commento anche per vedere come è andata. Grazie, un bacio, alla prossima e ciao a tutti di Alox.